Incominciamo a collegarci con tutti i nostri social network per parlare stasera di Cavour e del decennio tra il 48 e il 58. Riprendiamo quindi un po' il discorso che abbiamo già fatto sul 48, abbiamo fatto già due incontri. È successo il 48, il primo, soprattutto più incentrato sull'Europa e la prima guerra di indipendenza invece più focalizzato sull'Italia. Però vogliamo dire ancora qualcosa del 48, anche del periodo che ha preceduto il 48 e poi soprattutto del decennio che è arrivato dopo il 48, avendo come perno del nostro incontro Camillo Benso con Teddy Cavour. Cavour è il decennio dopo il 48. Allora, ci eravamo fermati la volta scorsa proprio alla fine della prima guerra di indipendenza. Ecco, questa sconfitta, in buona sostanza, degli italiani, cioè dei piemontesi e delle truppe alleate dei piemontesi, fa il paio con altre sconfitte, con altre repressioni. Il 49, infatti, è l'anno in cui rialzano la testa questi stati che erano stati scossi dalle rivolte del 48 e si riassesta la politica su basi un pochettino meno rivoluzionarie di quello che sembrava veramente l'anno prima potesse rappresentare una svolta grandissima, si può dire in tutta Europa. Le insurrezioni in Europa vengono represse in Francia, per esempio abbiamo già visto le insurrezioni del popolo, delle classi più basse, degli operai vengono represse dalla borghesia che comunque è al potere, anzi si è rinsaldata ancora di più e ha vinto le elezioni, la borghesia moderata e infatti Napoleone Bonaparte prima si fa eleggere presidente della Repubblica, ma non passano neanche due anni, si può dire circa due anni, che lui riesce a farsi eleggere, anche con un plebiscito, imperatore e di fatto quindi porrà fine alla Repubblica. Si fa chiamare Napoleone III, lui che è il nipote di Napoleone Bonaparte. Ma anche in Germania questi moti di unificazione nazionale tedesca furono repressi dagli stessi prussiani che poi, cambiando un po' anche il contesto storico, una ventina di anni dopo porteranno comunque, appoggeranno la unificazione tedesca. Per non parlare appunto dell'Ungheria, con la rivolta di Kossuth che è stata repressa duramente dall'Austria. Bene, vediamo un po' di parlare però soprattutto dell'Italia e di questo personaggio, Camillo Benso, conte di Cavour, nato il 10 agosto del 10 a Torino. Morì il 6 giugno del 1861 di malattia nella sua città natale, pochi mesi dopo essere riuscito a realizzare il sogno di tanti italiani, cioè la proclamazione del Regno d'Italia. Ecco, vorrei sottolineare, vedete che l'ho scritto addirittura in grassetto e in maiuscolo, era un nobile, non era neanche un borghese, era un nobile, figlio del nobile Michele Benso di Cavour, però sostenitore del regime napoleonico. Eh sì, qua dobbiamo fare di distinguo. Anche fra i nobili infatti ci sono quelli più conservatori retrivi e ci sono anche dei nobili liberali. Ecco, abbiamo già visto che un pochettino, ad esempio Carlo Alberto era diverso da Carlo Felice, era più vicino ai liberali e stiamo parlando adesso addirittura dei Savoia, quindi dei re di Sardegna. Questa cosa vale ancora di più, se vogliamo, per altre famiglie nobiliari piemontesi come quella di Cavour. Tra l'altro lui aveva una madre, Adele de Ceylon, proveniente da Ginevra, una dama dell'alta società svizzera, che ancora di più lo instradò e lo educò nella cultura francese. Lui nasce nel 1810, c'era ancora Napoleone, quindi nasce nel periodo napoleonico. Adesso sottolineiamo molto questo aspetto, cioè che nasce in un periodo in cui il Piemonte addirittura è una sorta di parte, fa parte integrante della Francia, dell'impero francese. È Francia a tutti gli effetti, si studia e si parla il francese in quegli anni, perché è stata annessa proprio alla Francia da Napoleone, a differenza di altre parti d'Italia dove si era creata prima varie repubbliche, poi una repubblica italiana, infine un regno d'Italia, a Milano anche semplicemente, ecco il Piemonte, la Liguria, la Toscana, invece facevano parte integrante della Francia. Lui nasce in un certo senso francese, la sua cittadinanza, la cittadinanza dipende dal luogo in cui è nato, lui è nato nel Piemonte francese. Conosceva infatti meglio il francese dell'italiano e tutte le volte che doveva esprimersi in italiano faceva un po' degli strafalcioni, qualcuno gli faceva notare. Comunque era tale il suo impeto oratorio che anche se non sapeva parlare benissimo l'italiano si faceva seguire, si faceva seguire da altri liberali, per esempio in Piemonte ce n'erano molti e c'era quindi una specie di frangia, chiamiamolo così, anticlericale, liberale, della quale fa decisamente parte Camillo Benso Conte di Cavour. Era comunque un cadetto, figlio cadetto, questa è una cosa che l'aveva molto colpito e amareggiato, lui non era il primo genito, ma era il secondo genito, quindi non era destinato ad esempio ad ereditare tutto quello che avrebbe ereditato il suo fratello maggiore. Con il fratello maggiore quindi a fasi altarinanti, in alcuni periodi di grande sintonia l'uno con l'altro, in altri periodi un po' di conflittualità e comunque lui deve un po' scontare all'inizio questo complesso di inferiorità nei confronti del fratello maggiore. Soprattutto questo lo faceva arrabbiare, perché Camillo non era un tipo di essere secondo, era nato per imporsi, aveva un carattere veemente, forte, e quindi non poteva accettare questo tipo di sottomissione. Attenzione, era un monarchico comunque, era un liberale, ma era monarchico, ovviamente propendeva per la monarchia costituzionale, non per una monarchia assoluta, tradizionale, non era un conservatore. La sua famiglia, anche proprio per questo motivo, per il fatto che lui era un cadetto, quindi non poteva essere il padrone delle terre di suo padre, lo indirizzò proprio nella carriera militare. In gioventù, Cavour frequentò il corso della regia Accademia Militare di Torino, concluse l'addestramento nel corpo reale del genio nel 1825, quindi giovanissimo, all'età addirittura di 15 anni, e nell'inverno tra il 1826 e il 1827 era già ufficiale del genio. Questo comunque era un titolo importante, infatti grazie a questo titolo e alla famiglia Abbiente, a soli 22 anni, pochissimo tempo dopo, nel 1832, diventò sindaco di Grinzane, dove la famiglia Cavour aveva i suoi possedimenti. Tenne questa carica per tantissimo tempo, fino al 1848. Quindi, prima indirizzato verso la carriera militare, poi comincia a interessarsi di altre cose, ad esempio di amministrazione. Ecco, lo sapete ancora adesso, il sindaco è un amministratore. Tra l'altro, oggi questo paesino si chiama Grinzane Cavour, perché è chiaro, c'è questa eredità che assolutamente non vuole dimenticare, questo paese è orgogliosa di essere stato un paese guidato da uno dei padri del risorgimento. Nel 1830 venne trasferito a Genova, dove conobbe Anna Giustiniani Schiaffino, con cui ebbe un importante rapporto di amicizia, diciamo che un po' tutta quanta la situazione anche familiare però, non gli permise di portare avanti un progetto di matrimonio e quindi questo rimase come un punto quasi incompiuto della sua vita. Però aveva rapporti con una donna soprattutto, non era uno che comunque avesse un uomo di salotti o di grandi flirt sentimentali e quindi questa sarà praticamente l'unica donna con cui ha questo rapporto più profondo rispetto ad altre. Sono figlio della libertà e a lei devo tutto ciò che sono, può sintetizzare l'impianto ideologico dell'agire di Camillo Benso, Conte di Cavour, tutto improntato sul liberalismo, sul costituzionalismo e anche ovviamente sulla lotta contro gli austriaci in un primo momento. In un primo momento né lui né altri, nessuno praticamente in Italia, aveva ancora ben chiaro come che si potesse arrivare addirittura all'unificazione italiana. Abbiamo già detto, anche i Savoia in questi decenni immaginano, sperano, sognano al massimo di diventare re dell'Italia del Nord, dell'Alta Italia, di avere qualche stato o possedimento in più, di poter annettere insomma dei territori, ma assolutamente nessuno poteva immaginare anche in quella, diciamo così, durante i primi moti che ci sono stati, di cui abbiamo parlato 2021-3031, che si potesse arrivare all'unificazione italiana in così pochi decenni. Però la libertà si è il liberalismo, ecco in campo tra virgolette diciamo ideologico, politico, e il liberismo in campo economico, cioè il fatto che ci potessero essere liberi scambi perché lui era convinto di questo, cioè che il mercato avrebbe sanato da sé qualsiasi tipo di criticità. Già dal 1834, mentre ricopriva la carica di sindaco, Cavour incominciò a aprire suo sguardo verso l'Europa, a viaggiare per l'Europa, studiando il grande sviluppo economico dei paesi più industrializzati come la Francia e la Gran Bretagna, concluse i suoi viaggi nel 1843. Sono tutti decenni questi di grande preparazione. Cavour non è assolutamente ancora un protagonista della scena politica italiana, ma tutto quello che sta facendo, la sua formazione dicevamo in campo politico, in campo militare anche, perché anche quello ha avuto il suo peso, ma soprattutto direi in campo politico ed economico. Ecco infatti anche la gestione di tutte le proprietà, le terre, i Cavour avevano delle risiere, delle risaie volevo dire, piuttosto vaste. Lo portò a approfondire meglio questi argomenti, conoscere economie più avanzate, più industrializzate come quella della Gran Bretagna, anzitutto, ma è seconda battuta direi anche della Francia, che stava andando incontro ad uno sviluppo industriale precoce rispetto all'Italia, tardivo rispetto alla Gran Bretagna, ma precoce rispetto all'Italia. E quindi poteva essere un modello, anche perché in un certo senso per tutta una storia, una tradizione ancora più vicino a noi, che poteva essere spendibile nella politica italiana. Che cosa scrisse nel momento in cui decise anche di intraprendere ancora più seriamente la carriera politica? Già era sindaco, l'abbiamo detto, ma si prefisse di essere eletto nel Parlamento Sabaudo. Ecco, qui ovviamente assistiamo a una svolta importantissima per lui, per la sua vita, certamente, ma anche, come vedremo, per la storia d'Italia. Cosa scrisse questo proposito? Vedete, signori, come le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano, invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario, lo riducono all'impotenza. Ecco, quindi, la filosofia, anche politica, se vogliamo, di, intanto un salutone a un mio ex alunno, Alessandro Ranica, la forza politica, dicevamo, di Camillo di Cavour, la posizione, meglio, politica di Camillo di Cavour, era quello di un liberale, quindi era un nobile, sì, ma non conservatore liberale, ma sicuramente anche antirivoluzionario, o comunque, era decisamente, gli era decisamente antipatico, Garibaldi, Mazzini, i democratici, i repubblicani, lui, le abbiamo detto che era un monarchico, non era un repubblicano. Ora, il suo intento, quindi, era quello di sostenere assolutamente la monarchia, non di fare una rivoluzione in senso repubblicano, però voleva convincere i monarchici che la monarchia poteva continuare a resistere, sussistere, anzi addirittura diventare più potente, espandersi, solo se si concedevano delle riforme. Queste riforme, non erano un ostacolo per il potere monarchico, come affermavano i conservatori, come affermavano gli assolutisti. Al contrario, le riforme, ad esempio, costituzionali, liberali, eccetera, avrebbero rafforzato l'autorità del re, invece di debolirla, e avrebbero, anzi al contrario, colpito proprio i rivoluzionari, cioè togliendo loro il lumus sul quale poter eventualmente convincere il popolo a reagire contro un tiranno. Se invece il popolo non si trova davanti un monarca assoluto, può succedere, come effettivamente succederà, che il popolo veda nel re, anzi, una figura, un punto di riferimento, un modello, anche se magari a conoscerlo bene Vittorio Emanuele II, sicuramente non era una persona così virtuosa. Ma, diciamo, la contingenza storica fece sì che il popolo potesse trovare in lui una bandiera, una figura da seguire, il leader effettivo era Cavour. Il leader effettivo di questa monarchia sabauda diventerà decisamente Cavour, non Vittorio Emanuele. Ma Cavour, anche se a Cavour stava antipaticissimo il re Vittorio Emanuele II, capisce che vale la pena di puntare su di lui, cercare di convincere anche, diciamo, tra virgolette, l'elettorato, che stava arrivando il momento di dare credito alla monarchia sabauda, di dargli potere, perché era l'unica che avrebbe potuto incarnare, realizzare quindi il sogno dell'unificazione italiana. Tornato dai suoi viaggi, nel 1843 infatti, abbiamo detto che decide di darsi decisamente, molto di più di prima, alla politica. Propone molte riforme nel campo agricolo, fondando l'associazione agricola, per esempio, e anche industriale. Abbiamo visto che era andato a vedere questi paesi in cui era già a un livello importante la rivoluzione industriale, avrebbe voluto molto che anche in Italia ci fosse una rivoluzione del genere. Queste sue idee ebbero in gran parte successo. Ricordate che Genova, allora, faceva parte del regno di Sardegna e Genova beneficiò molto anche delle riforme economiche di Cavour. Divenne un porto importantissimo, un polo anche industriale, grazie alla lungimiranza di Cavour, nel tempo e col tempo, non immediatamente, però è fondamentale, si crea quel famoso triangolo industriale, Torino-Milano-Genova, anche se per il momento Milano ancora non fa parte dello Stato Sabaudo, ma lo vedremo la prossima volta, farà presto parte di questo Stato Sabaudo. Pubblicò diverse tesi sul progresso politico, sociale ed economico in Italia e dei suoi vantaggi e di come sfruttarli al meglio. Aveva questo sogno che ci fosse tanto sviluppo in Italia, vedeva una grande potenzialità, era per il progresso. Nel 1847 fonda una rivista, e provate a indovinare poi il titolo di questa rivista, Il Risorgimento, anche questo rappresenta una lungimiranza, cioè lui riuscì a catturare, non quale poteva essere la parola chiave che avrebbe guidato gli italiani in questi anni, e quindi fonda proprio una rivista, fa anche il giornalista ovviamente in questo periodo del 1947 e non solo, anche dopo perché continuerà a essere pubblicata questa rivista, un po' trainante di quelle che sono le sue idee. Si espresse a favore di una Costituzione nel 1847, cioè un anno prima che accadesse quel 48 famoso in cui come abbiamo visto molti regnanti concessero una Costituzione come lo stesso Carlo Alberto. Il 26 giugno del 1848 Cavour venne eletto come deputato moderato del nuovo regime costituzionale perché da pochi mesi, come sappiamo, c'era lo statuto albertino, infatti ovviamente poi ci fu la sconfitta contro gli austriaci, questo avvenne già nel 48, ci fu una sconfitta e una resa. Poi ci riprovarono nuovamente i piemontesi nel 49, ma furono sconfitti definitivamente a Novara, ma tutto questo non impedì questa formazione di uno Stato liberale, di una monarchia costituzionale. Adesso vedremo anche come mai. Come mai, ad esempio, i Savoia non ritornarono ad un regime abbastanza tradizionalista come era stato per tanto tanto tempo. Ecco, abbiamo già detto che la prima guerra d'indipendenza fallì, concludendosi con la sconfitta di Custoza nel 48 e di Novara nel 49. Un problema al quale bisognava far fronte per chi stava immaginando di trainare tutta l'Italia verso... perché l'idea di nazione c'era e come, no? quindi come riuscire a sviluppare questo nazionalismo, questa idea di nazione, nazionalismo nel senso buono ovviamente, perché il nazionalismo poi lo sappiamo in genere è anche una specie di degenerazione dell'idea di nazione in tutta Italia. Beh, sicuramente per quanto riguarda il Sud esistevano dei limiti oggettivi. Se nel Nord, fin dagli anni 40, era in atto un processo di modernizzazione con strade, ferrovie e industrie, nel Sud dominava il grande latifondo e l'analfabetismo. Appena un italiano su dieci sapeva leggere e scrivere. E comunque in tutta Europa tutti quanti erano consapevoli che il regno dei Borbone nell'Italia meridionale era un regno demodè. Era un regno quindi obsoleto, abbastanza artificioso, basato su rapporti baronali, chiamiamoli così, e che sicuramente non era in linea con lo sviluppo che ormai stava dilagando in tutta Europa, sviluppo politico ma anche sviluppo economico, abbiamo detto. Questo sicuramente in prospettiva sarebbe stato e sarà un problema, il problema con la cosiddetta questione meridionale, che non si risolverà neanche quando il meridione entrerà a far parte del regno d'Italia. La situazione dopo la prima guerra di indipendenza vedeva quindi un nuovo monarca, che era il figlio di Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, che comunque deve fronteggiare una situazione complicata per via di questa sconfitta, cioè diventa re per firmare l'armistizio per arrendersi agli austriaci, perché c'era già stata la sconfitta di Novara quando lui diventa re. Anzi, proprio per quella sconfitta Carlo Alberto è abdicato, è andato in Portogallo dove è morto pochi mesi dopo. Il Parlamento di stampo conservatore, perché i conservatori erano comunque, anche all'interno dei nobili per esempio, o comunque anche dei deputati, erano sempre stati in grande prevalenza nel Piemonte Sabaudo. Addirittura loro rifiutavano lo statuto albertino e anche parte della stessa famiglia Savoia era come se a questo punto volesse tornare indietro. Ma visto che adesso le cose stanno andando in un certo modo in Europa e tanti altri, anche re, hanno ritirato quelle costituzioni che erano stati costretti a concedere al popolo, forse non è il caso se anche noi lasciamo perdere questo statuto albertino e ritorniamo a una bella tradizionale monarchia assoluta. Ebbene, Vittorio Emanuele II, che aveva tanti difetti, però in questo frangente decise di sciogliere questa camera in cui la maggioranza era dei conservatori, fu eletto una nuova camera dove i moderati erano in numero superiore. E nacque così il primo governo di Vittorio Emanuele II diretto da Massimo D'Azeglio, che è questo grande risorgimentale, scrittore, abbiamo visto, scoperto, vi ricordate anche andando a visitare la Galleria d'Arte Moderna di Milano, che è anche un grande pittore, Massimo D'Azeglio. Quindi è un personaggio comunque di un certo spessore. E adesso andiamo a vedere quali sono i rapporti. Certamente Vittorio Emanuele II vuole dare credito a quest'ala un po' più liberale, un po' più moderata dei nobili, per esempio, o dei politici piemontesi. Un po' come aveva fatto anche lo stesso padre, Carlo Alberto, pur con tutti i tentennamenti che abbiamo visto hanno caratterizzato la politica politica e anche la strategia militare di Carlo Alberto. Ecco, questo è il momento in cui Cavour, che ormai siede sugli scranni dei deputati del Parlamento Sabaudo, incomincia ad avere un incarico ministeriale. La politica liberista di Cavour, che lui ha concepito, ha già iniziato a scrivere, a teorizzare quelli che possono essere gli sviluppi, fa del Piemonte in quegli anni, prima in qualità di ministro, cioè già in qualità di ministro riesce ad attuare alcuni dei suoi progetti e poi, soprattutto, quando diventerà primo ministro. Diventa un modello per la borghesia italiana. La sua carriera politica cominciò subito dopo la concessione da parte di Carlo Alberto dello Statuto. Si presentò alle elezioni proponendosi nello schieramento moderato e nel 1850 Massimo D'Azeglio, allora capo del governo, gli affidò il ministero dell'agricoltura e delle finanze. Tanto per cominciare, se bisognava trovare una persona adatta a ricoprire quell'incarico, bene, di sicuro Cavour aveva già dimostrato ampiamente di poter essere competente in quel campo. Nel campo dell'agricoltura, una famiglia sua nobiliare di proprietari e terrieri, ma anche, dicevamo, nel campo delle finanze. Ah sì, questo è un particolare, una parentesi che non abbiamo aperto. Dovete sapere, infatti, che Cavour fu anche uno speculatore, o comunque, meglio, un investitore, un finanziatore, uno insomma che, sono i primi mercati, diciamo, borse europee, cercò di finanziare alcune imprese industriali, commerciali, eccetera, certe volte con successo, certe altre volte no. Però, indubbiamente, conosceva anche le finanze. Si trovò così a dirigere la politica economica e finanziaria del regno di Sardegna con ottimi risultati. Nessuno poteva, cioè, ad alcuni, a molti era antipatico. Abbiamo detto, al re, allo stesso Massimo D'Azeglio, perché intuisce subito che non ci può essere coabitazione, non ci possono essere due galli in un pollaio, no? E questo tale Cavour, indubbiamente, ha un tale seguito, ha un tale ascendente da leader, se vogliamo, anche, per cui Massimo D'Azeglio si accorge subito, forse, di aver fatto lo sbaglio più grande della sua vita, a farlo diventare un suo ministro, perché incomincia a prendere piede, no? Incomincia a tessere una rete di accordi commerciali con Francia, Gran Bretagna, Belgio, Austria, quindi anche con una acutezza, diciamo, diplomatica, politica, che fino allora nessuno ministro o primo ministro piemontese, Sabaudo, aveva dimostrato. In quegli anni, tra il 50 e il 52, in qualità di ministro del Regno di Sardegna, Cavour attuò una politica anticlericale o l'appoggiò, perché ci furono altri deputati che fecero delle proposte, ad esempio, leggi Siccardi, Siccardi si chiamava questo deputato piemontese, che volevano eliminare i privilegi ecclesiastici sull'esenzione dalle tasse, oppure altre leggi per sopprimere gli ordini religiosi conventuali, altre leggi per favorire l'istruzione pubblica, penalizzando quella privata, e quindi, diciamo, incomincia ad esserci un impianto che poi addirittura sarà l'impianto anche della scuola italiana, una volta unificata l'Italia. Cioè, queste leggi che sono concepite e anche approvate negli anni 50 nel Regno di Sardegna, poi verranno applicate anche nel Regno d'Italia, esattamente come avviene a livello dello statuto albertino che diventa la costituzione del nascente Regno d'Italia. Un piccolo aneddoto, dovete sapere che in quegli anni, in Piemonte, a Torino o nei dintorni, c'era un sacerdote, diciamo, famosissimo, importantissimo, bravissimo, che è Don Bosco. Don Bosco, però, reggeva una scuola privata, chiamiamola così. Erano le sue scuole professionali, attraverso le quali, però, dobbiamo dirlo con una certa fermezza e anche orgoglio, lui aveva dato un futuro a dei ragazzi che erano degli sbandati. Cioè, letteralmente, Don Bosco era nell'Ottocento quello che sono certi preti che operano nel sociale o nelle carceri. Proprio l'altro giorno ho sentito, ad esempio, Don Claudio Burgio, che è un cappellano di un carcere milanese, operava proprio per tirar fuori questi ragazzi, anche delinquentelli, e per farli diventare dei ragazzi che sapevano una professione e che avrebbero giocato queste loro competenze anche nel mondo del lavoro. Era una cosa bellissima, ma non era prevista, ad esempio, anche nelle scuole pubbliche, statali, una cosa del genere non c'era. E lui chiedeva anche un appoggio da parte dei politici, questi liberali, per esempio, che erano al potere in Piemonte. E non ebbe nessun tipo di appoggio, perché lui era comunque un prete e loro erano anticlericali. E allora ci fu molto, molto contrasto. Si arrivò al punto in cui Don Bosco si arrabbiò talmente tanto, con il re Vittorio Emanuele, che aveva firmato certe leggi anticlericali, che gli profetizzò delle sciagure familiari che avvennero puntualmente. E lui perse la madre, perse dei figli, eccetera. Quindi, questo per dire che comunque ci sono delle figure che magari a noi appaiono, a me ad esempio, possono apparire figure ideali, tante, tantissime, quelle di cui stiamo parlando. Quando per esempio si parla di Cavour e Mazzini o Cavour e Garibaldi, come se fossero stati, che ne so, tutti un unico cuore, un unico slancio unitario per l'indipendenza italiana. Quando invece, se andiamo a scavare, a leggere i documenti, le lettere, eccetera, cordialmente si odiavano l'un l'altro. E anche questa grande figura per me di educatore, appunto Don Bosco, la vediamo in questi periodi in forte contrasto con questi grandi personaggi del Risorgimento. In forte contrasto con Cavour e soprattutto in forte contrasto con la dinastia Sabauda e con il re Vittorio Emanuele II. Sta di fatto comunque che nel 52 si creano le premesse perché il nostro Cavour da ministro, ministro dell'agricoltura, ministro delle finanze, eccetera, possa diventare qualcos'altro. Cioè, possa diventare primo ministro al posto di D'Azeglio. La sua personalità era talmente forte, era anche dotato di consenso popolare. Diceva, cosa c'entra il popolo? Votava l'1% della popolazione. Sì, è vero. Però Cavour non disdegnava comunque il rapporto con la gente. Voleva che le sue idee fossero diffuse ampiamente. Abbiamo già detto e ricordato la volta scorsa che con la lirica, il Viva Verdi, il Manzoni dei Premessi Sposi, il Tomaseo, lo stesso Massimo D'Azeglio che scriveva appunto Lettore Fiera Mosca, eccetera. Comunque il popolo incominciava ad essere coinvolto in queste idee risorgimentali. E quindi lui aveva tanto seguito, quando si dovevano eleggere, scegliere delle persone, soprattutto in ruoli apicali, bisognava riconoscere comunque una certa competenza. E di sicuro anche, se vogliamo, le physique du rôle. Ah no, non è che aveva un grande fisico. Era un po' grassottello. Sì, ormai è arrivato ad avere 40 anni o un po' di più. Diciamo che si imbolsì un po'. Il nostro Camillo Benso Conte di Cavour. Però, a parte questo, intendo dire che lui aveva comunque un... era dotato di forte personalità, di leader. E così fu nominato nel 52 primo ministro al posto di D'Azeglio. Il primo obiettivo per Cavour era eliminare gradualmente la condizione di chiusura doganale in cui si trovava il regno di Sardegna. Quindi cercò anzitutto di... perché era un liberista, no? Cerca di creare le premesse perché l'economia piemontese non fosse un po' rinchiusa in se stessa. Non era un autarchico, ecco. Era un liberista, l'abbiamo detto, in campo economico. Dal 1850 al 1858 la politica liberista cavuriana produsse una forte accelerazione in vari settori dell'economia, in particolare nell'agricoltura e nei settori siderurgico e meccanico. mosse i primi passi anche l'industria chimica, oltre ai miglioramenti apportati alla rete ferroviaria del regno. Ecco, qui dobbiamo tornare un attimo indietro. Liberista sì, ma quando si trattava però di difendere o di proteggere certi prodotti anche piemontesi, poteva anche certe volte virare sul protezionismo. Però teneva tantissimo allo sviluppo economico, allo sviluppo industriale. e per favorire lo sviluppo industriale. Che cosa occorreva fare? Una rete di trasporti. Perché se tu hai una rete di trasporti, sia i commerci sia le industrie possono proliferare, possono prosperare. E così, in pochissimi anni, riuscì a creare una rete ferroviaria nel regno di Sardegna, che era praticamente equivalente a tutto il resto della rete ferroviaria che c'era nel resto d'Italia. Il primo tratto di ferrovie in Italia, lo sapete, l'abbiamo studiato, è quello da Napoli a Portici. Ma poi i Borboni non svilupparono più di tanto questa politica innovativa e quindi la rete ferroviaria nel regno delle due Sicilie. Invece Cavour si è come che lo fece. Nel frattempo però, nel 57, avvenne qualcosa che poteva anche turbare, minimamente direi, il nostro signor Cavour. Infatti lui aveva sempre una spina nel fianco, cioè che due spine nel fianco. Da una parte i conservatori, ultraconservatori, ultrareazionari. Dall'altra però aveva anche i repubblicani democratici e mazziniani e garibaldini e lui non poteva sopportare neanche loro, assolutamente. Nel frattempo comunque i mazziniani non rimasero fermi del tutto in questo decennio. Quindi intrapresero dei moti che però, come abbiamo visto anche prima del 48, vi ricordate i fratelli Bandiera, furono tutti quanti fallimentari. Un esempio clamoroso fu il moto di Carlo Pisacane. Carlo Pisacane, rivoluzionario socialista di cui abbiamo parlato tangenzialmente quando abbiamo fatto il bellissimo incontro sulle anime del risorgimento italiano, aveva delle idee quindi estremamente democratiche, avanzate e voleva a tutti i costi che finalmente in Italia ci fosse la Repubblica. Voleva abbattere tutti quanti i regimi monarchici, non solo quello dei Borbone dove andò a combattere, ma anche quelli del Nord, quindi anche appunto dicevamo quello dei Savoia. Lui cosa fece nel 57? Sbarcò a Sapri lì, quindi sul continente, con 300 detenuti politici che erano stati liberati su un'isola, l'isola di Ponza, con l'obiettivo di sovvertire il governo borbonico, cioè di fare quella rivoluzione antiborbonica, quella spedizione, chiamiamola così, che poi invece, lo vedremo fra due volte, che poi invece sarà realizzata e potrà essere realizzata solo in un contesto storico diverso e solo da una persona come Garibaldi. Queste cose le stiamo anticipando, ma ovviamente ne parleremo. La prossima volta faremo la seconda guerra di indipendenza del 59 e la volta dopo faremo l'unificazione d'Italia, Garibaldi è l'unificazione italiana. Nel frattempo Carlo Pisacane è un po' velleitario in questo suo tentativo, diciamo la verità, anche perché avviene con lui quello che era già avvenuto con altri, con i fratelli Bandiera, con la rivoluzione passiva, cioè la rivoluzione nel napoletano portata dai francesi, eccetera, eccetera. Cioè avvenne con i moti carbonari, cioè che non si era creato quel legame con il popolo e la gran parte del popolo, nel sud ma potremmo dire anche al nord, era fatto di contadini, la maggior parte dei quali era sicuramente di pensiero conservatore, nel senso che loro seguivano anche quelli che erano i consigli dei loro padroni, dei loro proprietari terrieri che facevano capire velatamente che a loro non conveniva ai contadini che cambiasse tutto da un punto di vista politico. Forse non avevano tutti i torti, perché è vero anche questo, non è che l'Unità d'Italia portò tanti miglioramenti alle classi più umili, anzi, forse anche per questo ci sarà poi il brigantaggio. Quindi sta di fatto che arrivano questi 300, erano 300, erano giovani e forti, ma poi furono tutti morti. Sembra di un ritornello che dalle Termopili arriva anche al nostro 57 con la spedizione di Pisacane. Che cosa succede infatti a Ponza? Succede che, un po' la stessa cosa che era successa con i fratelli Bandiera, che non si capiscono con la gente del popolo, anzi la gente del popolo, aizzata come al solito, ricordate i sanfedisti, aizzata dai sacerdoti, i preti e aizzata dai nobili, i baroni, presero questa gente, presi i forconi, andò ad attaccare, a respingere questi rivoluzionari che furono tutti quanti massacrati dalla gente del popolo, perché furono scambiati i perbriganti. Ecco qui la cartina che ci fa vedere dove si trova l'isola di Ponza e invece Sapri, appunto, sul continente. Si trova vicino al Golfo di Gaeta, quest'isola di Ponza. Ecco, l'infallimento di questo moto e di altri moti mazziniani portò, in un certo senso, a una svolta che invece fu molto utile a Cavour. Cavour si fregò le mani di questo fallimento dei mazziniani, perché allora poteva davvero convincere tutti, compreso il popolo, che la via da seguire non poteva essere quella mazziniana, quella di questi moti, erano stati tutti dei grandi fallimenti, tutti andati a ramengo questi moti. Bisognava usare un'altra tattica ed è quella che vedremo la volta prossima, però l'ultima slide di cui vi volevo parlare è la furbata da parte di Cavour di far partecipare il regno dei Savoia alla guerra di Crimea. Vi ricordate che abbiamo già parlato, quando parlavamo dell'età vittoriana della guerra di Crimea, essenzialmente tra Inghilterra e Russia, abbiamo anche parlato di un attacco suicida da parte della cavalleria dei 600, in quel caso che sono comunque sempre 300 per due di Balaclava, un episodio davvero traumatico per gli inglesi e comunque abbiamo già accennato alla vittoria finale degli inglesi in questa guerra di Crimea, è certo perché erano soprattutto loro coinvolti con gli antagonisti russi in questa guerra. Cosa centrano gli italiani con la Crimea? Ahimè purtroppo si tratta, l'ho già detto forse un'altra volta, di uno scenario bellico che assomiglia molto, oserei dire in maniera abbastanza preoccupante, assomiglia a scenari bellici contemporanei. Infatti lo sapete benissimo che Crimea vuol dire Ucraina. La Crimea faceva parte dell'Ucraina, ma adesso stiamo facendo un salto temporale, un volo pindarico, diciamo così. Però era giusto per dirvi che certe volte nella storia determinate situazioni si ripresentano pur con delle varianti importanti. Sta di fatto comunque che per unificare l'Italia Cavour avrebbe avuto bisogno dell'aiuto degli inglesi e dei francesi. Cosa stavano facendo in quegli anni gli inglesi e i francesi una guerra contro i russi? La guerra di Crimea quindi fu l'occasione perfetta per tessere proficui rapporti diplomatici, soprattutto con i francesi. Abbiamo già detto che i più interessati a questa guerra di Crimea erano gli inglesi, ma a Cavour interessavano molto i francesi. Al congresso di Parigi, che seguì la suddetta guerra, Cavour per la prima volta mise in evidenza i problemi italiani e propose il regno di Sardegna come unica forza in grado di attuare un progetto istituzionale affidabile. Tutti erano d'accordo che i Borboni non potevano andare avanti in eterno, perché erano davvero un tipo ancien regime. Allora lui, con la sua bravura diplomatica, ricordatevi anche che sapeva parlare il francese meglio dell'italiano, riuscì a far pensare Napoleone III, che all'inizio abbiamo visto era nettamente contrario a tutti questi sogni di unificazione italiana. Abbiamo visto che aveva lanciato le sue truppe francesi contro la Repubblica Romana, ve lo ricordate, nel 1949. Però adesso le cose stanno cambiando. C'è anche un episodio un po' personale che capita a Napoleone III. C'è un italiano, qui c'è scritto un agente mazziniano, insomma intendo dire un mazziniano, che ha attentato alla sua vita, ha attentato alla vita di Napoleone III. Questo viene imprigionato, processato, bla bla bla, eccetera. D'accordo. Però intanto Napoleone III mette un po' insieme le cose e capisce che è indispensabile anche un intervento francese in Italia per frenare anche qualsivoglia fermento rivoluzionario, perché è consentaneo con Cavour, perché l'obiettivo principale sia di Napoleone III sia di Cavour è quello di di frenare l'avanzata di idee democratiche, repubblicane, socialiste che stanno comunque espandendosi in Europa. Val la pena invece di guidare il popolo, val la pena di incanalare certi empiti, certi sogni popolari, perché in questo modo, come ricordate quello che aveva detto Cavour in quella famosa frase, il regime, anche monarchico, invece di indebolirsi, al contrario si rafforza e così incomincia a estorcere a Napoleone III una mezza promessa di poter entrare in guerra a fianco del Piemonte contro l'Austria. Abbiamo già detto una mezza promessa perché su questo approfondiremo il discorso con il prossimo incontro sulla seconda guerra di indipendenza. Non sarà tutto così facile, lineare, attenzione, quindi dovremo approfondire un po', ma non abbiamo più il tempo per farlo oggi, perché oggi abbiamo terminato il nostro decennio 48-58 e quindi per parlare del 59 dobbiamo aspettare la volta prossima con l'incontro sulla seconda guerra di indipendenza. Andiamo però intanto adesso a leggere gli interventi dei nostri amici, Venio Marcos Dos Santos, ciao professore, buonasera, ciao, ciao, buonasera Little Melvin, fare anche live di Mazzini e Garibaldi, di Garibaldi di sicuro, di Mazzini l'ho già fatta, si chiamava, l'abbiamo già fatta, si chiamava Le anime del risorgimento italiano, invece quella di Garibaldi si intitolerà più o meno così, Garibaldi è l'unificazione italiana. Cosa si intende con l'espressione Kansas insanguinato? Non lo so, perché oggi non abbiamo parlato di questo argomento, quindi non so a cosa ti riferisci. Bene, andiamo avanti, Bleeding Kansas, è una guerra di confine questa, è una cosa che avviene più o meno in quegli stessi anni, in contemporanea con le nostre vicende europee, avviene in America, ma di queste questioni noi abbiamo già trattato facendo una diretta sulla guerra di secessione americana. A proposito di unificazione, quali differenze passano tra il processo di unificazione tedesco e quello italiano? Lo vedremo la prossima volta e poi la lezione dopo ancora e ancora la lezione dopo ancora e dopo ancora e dopo ancora, per esempio quella che faremo sulla unificazione tedesca. Lì faremo un paragone tra queste due unificazioni. A proposito del meridione, perché nel 1870 il Regno d'Italia poteva finalmente occupare Roma e annettere lo stato della Chiesa? Anche di questo parleremo assolutamente in una delle prossime lezioni. Anche questo si dovette ad una contingenza comunque particolare, in particolar modo la guerra franco-prussiana e la sconfitta dei francesi. Apri le porte ai Garibaldi, o meglio ai bersaglieri, perché Garibaldi ci aveva già provato prima, ma adesso proprio arrivano i bersaglieri a fare la breccia nella porta a Pia di Roma. Interessante questa differenza tra nazionalismo e il nazionalismo nel senso che generalmente è un termine abbastanza dispregiativo, quindi ho dovuto fare quella precisazione. Più che di nazionalismo sto parlando di nazionalismo nel senso buono sarebbe l'idea di nazione. Don Bosco accusò Vittorio Emanuele II di eresia, ma se non lo definì eretico, di sicuro lo definì preso dal diavolo, è comunque sicuramente un anticlericale, è sicuramente appunto uno che si sarebbe meritato una punizione da Dio. Quanto all'estero, quali provvedimenti adotò che avrò nel settore del commercio con l'estero? Ma quello di aprire il più possibile al commercio con l'estero, di poter vendere ad esempio i prodotti italiani piemontesi all'estero? Quali erano le linee guida della sua politica estera? Adesso abbiamo parlato del lato economico, ma ricordiamoci quello che avevamo detto qualche minuto fa sull'aspetto politico, cioè lui era molto interessato alla Francia, quindi dicevamo sia da un punto di vista economico, perché era un po' più avanzata rispetto all'Italia, sia da un punto di vista politico, perché senza la Francia probabilmente non si sarebbe realizzato il sogno della seconda guerra di indipendenza di cui parleremo la volta prossima. Era un conte, sì, sì, era un conte, era un nobile, però l'abbiamo già detto, ci sono nobili e nobili, lui era un nobile liberale. Sviluppò possibilmente tutti i settori economici, l'abbiamo già visto, ti ricordi la slide che abbiamo parlato prima dei settori siderurgico, meccanico, dove era possibile, in tutti i settori, settore agricolo, settore siderurgico, meccanico, industria chimica e settore dei trasporti, quindi in tutti i settori possibili e inimmaginabili lui cercò di intessere relazioni con gli stranieri. La guerra di Crimea, le innovazioni belliche, gli obiettivi della partecipazione piemontese a conflitto. Ecco, in pratica a noi interessa soprattutto di questa guerra, dire sì, sicuramente, che c'erano dei problemi di carattere economico, perché la Crimea ha sempre svolto un ruolo, lo svolge ancora oggi, centrale dal punto di vista dell'economia, perché ci sono i porti, Sebastopoli, poi altri porti importanti in Crimea, e perché dalla vicina Ucraina arriva il grano che può essere commerciato attraverso proprio questi porti e dal Mar Nero giungere in tutta quanta l'Europa. È chiaro che un controllo stretto della Crimea da parte dei russi avrebbe impedito i rapporti commerciali profiqui per tutta quante l'Europa, per la Francia, per l'Inghilterra. Ecco, secondo me, il motivo principale per cui scoppiò questa guerra. Certo che ci furono delle innovazioni belliche importantissime durante questa guerra, soprattutto a livello di artiglieria e di armi e bocche da fuoco. L'obiettivo della partecipazione piemontese era quello di ormai poter partecipare a un consesso europeo con una certa autorevolezza. Perché? Perché si era partecipato a una guerra, che possiamo definire davvero, in un certo senso, una guerra europea contro la Russia. Speriamo che la cosa non si ripresenti più o meno nello stesso modo anche ai nostri tempi. E quindi poter sedere al congresso di Parigi con un peso anche diplomatico importante. Il contenuto dell'accordo tra Cavour e Napoleone III lo vedremo la prossima volta. Ho fatto salti troppo lunghi verso l'era contemporanea. Sì, li hai fatti tu, ma li ho fatti anch'io, assolutamente. Però era un po' per attualizzare anche quello che abbiamo detto stasera. Comunque veramente grazie a voi, anche delle vostre domande.